Ti servono crediti? Non sai dove acquistarli, TonyTube vuoi aiutarti? Fifacoin.com Codice Tony e riceverai anche un piccolo sconto, link in descrizione Yeho e benvenuti in questo nuovo video, ciao ragazzi sono TonyTube Benvenuti nel consueto appuntamento del giovedì Dove andiamo ad aprire i premi di Weekend League Oggi doppio appuntamento per capire i miei premi sia su Xbox che su Playstation Con due risultati fantastici, ragazzi il mio primo fuoriclasse è arrivato Prima di iniziare ragazzi volevo dirvi che anche io sarò presente all'Empoli All'Empoli eSport Cup del 2 aprile, del 2 e 3 aprile che si svolgerà a Empoli Presso lo stadio Castellani Ragazzi vi lascio in descrizione il link dove c'è spiegato tutto dell'evento Un link Facebook che mi manda su Facebook dove è spiegato tutto l'evento Si vince una Playstation 4, è un torneo incredibile Oltre a me ci saranno altri youtubers che vi comunicherò ragazzi in seguito È un'occasione per vederci per scambiare due chiacchiere Per passare un po' di tempo insieme Quindi mi raccomando se siete della zona Se salite per vedere il 3 Empoli-Napoli Mi raccomando non mancate Il 2 aprile ci sarà la fase eliminatoria E il 3 ci sarà poi le fasi finali che verranno fatte il giorno della partita Stesso lì allo stadio Quindi un evento fantastico ragazzi Come molti di voi sapete Io collaboro ormai da oltre un anno e mezzo con l'Empoli Quindi per me è un motivo ragazzi veramente di gioia Perché quando vengo a Empoli è sempre per me come venire in una seconda casa Quindi vi aspetto a Empoli non mancate E adesso andiamo dentro con i premi di Weekend League Eccoci qua ragazzi siamo sul Xboxone Che grande macchinone Qui abbiamo fatto Oro 1 come risultato Già ve l'ho spoilerato Però andiamo ad aprire i premi di Division Rivals Di Division Rivals ragazzi a sto giro mi prenderò i premi scambiabili Quindi livello 2 Ce l'ho fatta Sì livello 2 Perché adesso stanno giocando un po' di meno la gente dei Rivals Quindi con i soli diciamo punti di Weekend League Riesco a fare livello 2 E che è ottimo Abbiamo un mega pacchetto Abbiamo un mega pacchetto raro Un pacchetto giocatori misti prime E due pacchetti oro premium Subito i due pacchetti oro premium maxi Che comunque c'è un pacchetto da 15.000 Cosa vuoi che ti esce da dentro a pacchetti di 15.000 Infatti non esce IF Ti prego fai IF Gli IF sono stati lì sul mercato in un modo spaventoso Il mercato ragazzi si sta scimulendo Oh Carvaggiallo 85 Andiamo col secondo pacchetto E dopo Carvaggiallo Mi fai un walkout E invece non me lo fai E allora sei scorretto Vabbè niente Comunque ragazzi Un'altra cosa che ci tenevo a dire A tutti E mi raccomando Fatemi sapere in un commento Se la pensate come me È questa Parlava poco italiano Diceva Te gusta la Spagna Pararappa Ci entra niente Lo so Stamattina sono così Sono allegro Non lo so perché Una volta tanto Mi sveglio la mattina E sono allegro ragazzi È una cosa che non capita tanto Proprio voi non lo sapete Stasettimana Non ho fatto tanti video Perché Sono stato ricoverato in ospedale E non è un clickbait No assolutamente Non lo menziono Sta cosa nel titolo Comunque dicevo Sono stato ricoverato in ospedale Con un'intossicazione alimentare Quindi Non sono stato ricoverato In realtà sono andato in ospedale A farmi fare le siringhe e tutto Però Sono riuscito a giù una merda Questo volevo dire Cosa sei? Nacho Fernandez Che bello Mi hai fatto la difesa del Real Madrid De Scema Carvajal E Nacho Fernandez Va bene ragazzi Premi di Division Rivals Che come al solito Fanno caccale Caccale Quindi andiamo subito Allora andiamo a vedere Il Team of the Week Stasettimana Che abbiamo fatto Fuori classe Su Playstation Ragazzi Come potete vedere Non ce ne sta uno Decento Di Maria Andiamo Foot Champions Ragazzi Quindi Foot Champions Oro 1 Due pacchetti Da 100.000 50.000 Crediti E due player pick Le player pick Bisogna aprirle subito Quindi andiamole ad aprire subito Vai Vediamo cosa mi fa uscire Oh Cicciarito Hernandez Beh 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 Fammi usci pure l'Arcangelo L'Arcangelo Oh De Vrij Allora c'è De Vrij E Richardson Richardson Teoricamente Dovrebbe essere un po' più Buggato Più giocato Ma a me ne frega niente Abbia De Vrij Che magari se mi serve Per una sfida L'uso Allora Due pacchetti Da 100.000 Ma E qui non esce niente Da ogni roba Fammi di cono Icono nazionale Porta male Icono nazionale Manga walk out Ma sono l'unico Essere umano Sul pianeta terra Capri fa che da 100.000 Senza trovare walk out Come si fa Nata una gioferna Ah ok Alla un albione Ok Dai Che tanto C'è tanti walk out brutti Che puoi fare Non è che devi fare walk out E devi fare di cono E walk out E almeno Fallo Dai Cosa sei Portogallo Oh Ciruzzo Immobile Immobile Grande Ciruzzo Immobile Buono Ciruzzo Immobile Ce l'ho al fantacalcio Grande Cito Grande Cito Eeeh Ma ha fatto serie a pack Ragazzi Miranda Comez Manzuchiz 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 Acerbi Bene ragazzi Quindi Questi premi di Xbox Li abbiamo aperti Trasferiamoci Sul Playstation Il Footbeard Inizia Fra un giorno E 6 ore Quindi mi raccomando Ragazzi Venerdì Tutti connessi Su Su Twitch Ragazzi Tutti connessi Su Twitch Mi raccomando Che c'è l'evento Del Footbeard Dei Twitch Tony Tubbo E' facile Siamo quasi a 100.000 Follower Quindi a 100.000 Cari amici follower Che per Twitch Italia E' un numero Pazzescamente Pazzesco Quindi mi raccomando Seguitemi Allora Cominciamo anche qui Con le Division Rivals Division Rivals Qui abbiamo Un giocatore in Italia E un pacchetto mega Tanto Chi vuoi che mi esce Almeno se mi esce Qualcuno di Opera all'alto Ma è così Che Tony Trova un'icona Baby Ok Quindi abbiamo Questi pacchetti Ragazzi Preferisco prenderli Non scambiabili Comunque Possono essere buoni Cominciamo subito Vai Vai Pacco mega Senza walk out Tutto Tutto Però almeno Lavagna È portogallo Portogallo a Titti Juventus No non è lui Ok Quindi vai col pacco mega E facci sto walk out Facci sto walk out No Cosa sei? Mango Lavagna Grazie 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 Dio di FIFA Questi sono due pacchetti Da 50.000 crediti Dai Dai Fate Fai almeno qua un walk out Dai Fallo almeno qua Mamma mia Sto account lo devo portare a benedire Dai Manco Lavagna 12 giocatori Manco Lavagna Dai Come on Come on Come on Fallo un walk out Fai un if Cioè almeno gli if Che costano un botto Vi dà L'Arturo Arturo Allora ragazzi È il momento Di aprire Finalmente Il nostro Fuori classe Fuori classe 3 ragazzi Quindi abbiamo Vinto 70.000 crediti 2.000 punti di qualificazione Un pacchetto da 100.000 Un pacchetto Premium team of the week Che oggi ragazzi Di solito io sono contro Il fatto di tenersene E non aprirli Perché dico Vabbè che te ne frega Se devi sculare Sculi Però siccome oggi Il massimo dello sculo Può essere di Maria Non esiste proprio Quindi Uno di 5 giocatori di Champions Dai Andiamo a vedere Cosa ci fa uscire Hai visto la differenza Tra i premi di oro E i premi di fuori classe Cioè 81 75 77 79 E un 84 Eh prendi l'84 Prendi l'84 Cicerito Hernández Ce lo facì questo Arcangelo di Maria Solo per lo sfizio Di dire Una volta tanto Ho trovato il migliore Del team of the week Niente Quindi ragazzi Premi fuori classe 3.84 Apriamo il pacchetto Giocatori La di Max Dai Andiamo a vedere Col pacchetto Da 100.000 Cosa ci Ci tiene Niente walk out E vabbè Dai Però if Però if Beh buono Buono l'if Buono che mi serve Per fare le sfide Chi è il portiere Dell'olandese Della Z Che è Ragazzi Voi giustamente Leggete il video Primo fuori classe Io vi dico Che mi conservo Il pacchetto Dai Non sono Tony Tubbo E E' una cosa Allora ve lo dico E' una cosa Sbagliata Aprirsi questo pacca Adesso Ma Lo faccio Per voi Quindi vai Vai Almeno qua Me lo fa il walk out Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci voglio Credere Non ci voglio Credere Beh ragazzi Per questo video E' tutto Vi ricordo Come sempre Che in descrizione C'è il link Per venire al torneo Di Empoli Ci tengo tantissimo Che dovete venire In tantissimissimissimi Quindi mi raccomando Veniteci E niente Da Dove è tutto Se non sei ancora iscritto Al canale Mi raccomando Iscriviti Noi ci ribecchiamo Ad un prossimo video E Bella ragazzi E tutte le sere Su Twitch Ci sono A fare le live Se hai Amazon Prime Ti abbono Puro gratis Bella